benvenuti alla resegna stampa di venerdì 17 settembre 2021 fanno tv canale 17 del digitale terrestre siamo anche questa mattina in diretta alle 7 puntuali sempre per commentare i giornali che abbiamo preparato per voi questa mattina le pagine che abbiamo preparato per voi adesso però il santo il tempo e poi iniziamo allora san roberto bellarmino questo è bellarmino questo è il santo di oggi tra i tanti che la chiesa ricorda il sole sorto alle 6 49 e tramonterà alle 19 16 già piove in molte parti della nostra regione piove con rovescio temporali più probabili comunque nel settore centro settentrionale possibilità di rovescio temporali sparsi anche nel pomeriggio nel settore però montano o collinare poi e collinare poi domani sabato 18 vediamo subito il tempo dal sito della protezione civile delle marche anche qui domani non si escludono brevi e locali rovesci pomeridiani nel settore montano e collinare della regione domenica ancora pioggia con nuvolosità estesa anche sulla costa non si escludono anche qui domenica brevi o locali rovesci pomeridiani in montagna e in collina possibili condizioni di tempo a tratti instabile anche per la prossima settimana allora adesso i giornali cominciamo questa mattina al corriere adriatico edizione di pesaro il titolo green pass il nì della delle marche il nì nel senso ne si ne no perché ci sono delle questioni che tra poco vedremo esteso dal 15 ottobre a lavoratori pubblici e privati così come alle partite iva nella lista anche colf e babysitter i nostri imprenditori ma gli imprenditori marchigiani dicono avanti tutta ma il presidente acquaroli chiede nella conferenza stato regione ha chiesto i tamponi la validità dei tamponi a 72 ore per non penalizzare le famiglie per non penalizzare quelli che evidentemente cercano di tener duro andare avanti con i tamponi un conto è farli ogni 48 un conto è ogni ogni 72 ore poi la regione che notifica l'avvio dell'atto il project financing la renco avvisata della revoca e sempre dalla prima del corriere assunzioni per favori fiscali un manager finisce a processo costola dell'inchiesta della guardia di finanza all'ex direttore dell'agenzia delle entrate di pesaro che ha patteggiato è iniziato il processo a carico di sei persone tra imprenditori manager e direttori d'azienda per il reato di induzione a indebite promesse di utilità tutto fa capo al caso di elio borrelli l'ex direttore dell'agenzia delle entrate di pesaro quando era direttore a venezia aveva patteggiato a due anni il titolo invece d'apertura del corriere edizione di pesaro giusto il green pass in azienda gli imprenditori dicono sia alla scelta del governo di allargare l'obbligo la strada giudicata come necessaria mentre vaccini col contagocce l'allarme l'allarme sempre meno prime dosi negli hub provinciali questo è questa è la fotonotizia di di oggi poi terapie intensive marche maglia nera per il tasso di ricoveri la sanità che continua a non funzionare chiamo il cup ma prenotare è impossibile e ancora sempre dalla prima del carlino lo sport calcio dilettanti ecco i calendari di prima e seconda mentre vl su il sipario che sfida con venezia domani a mezzogiorno la supercoppa allora partiamo dal discorso del green pass cercando di stare tranquilli ecco perché tanto ormai questo dobbiamo fare cercare di resistere cercare perlomeno mi riferisco a coloro che non hanno nessuna intenzione di fare il vaccino perché hanno ragionato così perché vorrebbero così perché sono loro che devono decidere il proprio corpo e non lo stato e allora questo è il titolo del corriere adriatico a pagina 2 dipendenti badanti partite dal 15 ottobre c'è il green pass servirà a sindaci e governatore il governo ha deciso l'estensione del certificato verde con sanzioni pesanti tampone molecolare valido 72 ore prezzi calmirati per le prove anti covid nel settore privato prevista l'immediata sospensione dal lavoro mentre il decreto resterà in vigore fino al termine dello stato di emergenza uno stato di emergenza che va avanti senza sosta cioè si continua ad essere in continuo stato di emergenza anche perché senza stato di emergenza ovviamente il giochetto finisce per chi vuole continuare a governare in questo modo e allora andiamo a vedere questo invece questo questo grafico che sintetizza un pochettino quella che è la situazione dal 15 ottobre in poi allora abbiamo detto intanto bisognerà resistere almeno fino al 31 di dicembre perché il nuovo passaporto anti covid ha questa validità qui cioè dal 15 ottobre fino al 31 di dicembre quindi chi non vuole vaccinarsi sa che al massimo deve andare avanti a tamponi fare due conti in tasca vedere se ci sono disponibili soldi per pagarsi ogni 48 ore prendere un prestito qualcosa insomma fare qualcosa per cercare di arrivare a pagarsi nonostante la rottura di scatole di andare tutte le volte a farsi infilare questa cosa sul naso ma indipendentemente da questo resistere fino al 31 di ottobre i green pass sono obbligatori come abbiamo visto nel settore pubblico nel settore privato per le partite iva per le colf babysitter i balle badanti badanti lavoro a chiamata magistrati avvocati e organi costituzionali la certificazione verde subito dopo la prima dose è valida il test anti covid negativo oppure con la guarigione del dal covid queste sono le condizioni per poter avere questo certificato verde la durata dei tamponi 72 ore quelli molecolari 48 ore invece quelli antigenici e quelli rapidi il costo il costo dei test allora sono gratis per chi è esente a un certificato di esenzione chi non può fare il vaccino lo vorrebbe magari fare ma non lo può fare per motivi di saluto oppure per tutti gli altri per i minorenni sono 8 euro a tampone 15 euro invece per i maggiorenni le sanzioni le sanzioni vanno dai 600 ai 1500 euro con la sospensione immediata dal lavoro per i dipendenti privati sospensione dopo cinque giorni di mancata presentazione del green pass per i dipendenti pubblici per le altre categorie invece green pass lo stesso per le categorie elettive e istituzionali quindi come abbiamo visto sindaci tutti quelli che vengono eletti o che hanno cariche istituzionali questi devono avere tutti quanti il tampone quindi o si vaccinano oppure fanno il tampone ogni 48 barra 72 ore ma la vedo dura allora c'è un'intervista però che voglio leggere di questa mattina di teresa bianciardi sul corriere adriatico che riguarda il presidente della regione marche acquaroli sapete acquaroli è di fratelli d'italia giorgia meloni ha una linea e quella è sempre stata ovviamente non è che il presidente che ha espressione di fratelli d'italia può fare come vuole di conseguenza anche perché giorgia meloni non so se la seguite anche livello nazionale spesso cita l'esempio delle marche spesso cita il suo governatore suo tra virgolette insomma e di conseguenza deve rimanere un po in linea anche alle cose che dice giorgia meloni ma che cosa dice acquaroli in questa intervista questa mattina intanto che ha chiesto durante l'incontro stato regioni per la definizione del green pass nei luoghi di lavoro di ha sostenuto con forza dice lui la necessità di estendere la validità del tampone da 48 a 72 ore perché il green pass dice acquaroli rischia di diventare una misura estremamente penalizzante per le famiglie marchigiane la biangiardi perché perché soprattutto e questo è un problema davvero serio i genitori con figli che frequentano le attività sportive e che non sono convinti di sottoporli alla vaccinazione a quell'età parliamo di bambini 12 13 anni si vedono costretti a pagare i test per proseguire l'attività extrascolastica un peso economico importante che non tutti si possono permettere abbiamo visto che insomma parliamo di otto euro ogni due giorni ammesso che l'attività sportiva si faccia per due o tre volte alla settimana insomma sono cominciano a essere delle delle spese poi magari qualcuno ne fa anche più di una di attività perché non c'è solo attività sportiva c'è anche la chitarra c'è il pianoforte c'è quello c'è quell'altro insomma questi giovani pur di non farli stare dentro casa a rimbecillirsi davanti al computer è bene che facciano queste attività ma certamente questa questa cosa penalizza le famiglie dunque che idea si è fatto dell'estensione ancora la domanda del passaporto anti covid nei luoghi di lavoro e allora acquaroli risponde chiariamo un punto leggete insieme a me io sono vaccinato la regione sotto questo profilo è da esempio non ma non possiamo nasconderci dietro un dito nel senso che con il green pass così allargato alla fascia della popolazione ormai praticamente comprende tutti si rende praticamente obbligatorio il vaccino senza però farlo attraverso una legge capitola furbata non mi sembra corretto e direi che potresti anche togliere potrebbe anche togliere caro presidente non mi sembra perché questo è scorretto punto e basta cioè non è che c'è bisogno tanto di discutere è una scorrettezza è una scorrettezza punto e basta non è che potrebbe essere scorretto no è scorretto perché o fai una legge e obblighi oppure così vuol dire che fai il furbo e poi dai del furbetto a chi non si vaccina il primo furbo è lo stato ma detto questo ancora una domanda della bianciardi lei è d'accordo alla profilassi obbligatoria contro il covid risposta del governatore no non sono d'accordo per l'obbligatorietà del vaccino l'ho sempre detto credo nella volontarietà dell'azione vaccinale e parlo da governatore di una regione che ha raggiunto l'ottanta per cento della profilassi come prima dose e dell'oltre 70 per cento come seconda ora anche qui bisognerebbe che qualcuno si mettesse d'accordo anche i colleghi giornalisti perché da una parte leggiamo io ve ho saltato stamattina tutte le pagine in cui si lamentano tutti che gli hub vaccinali sono fermi che le prenotazioni sono finite che tutti sono disperati perché sono lì con la puntura alla mano ma non c'è nessuna spalla da inoculare come se fosse una tragedia greca insomma allora o siete contenti che c'è l'ottanta per cento di persone marchigiane che volontariamente si sono fatte il vaccino oppure siete scontenti cioè decidetevi perché non si capisce sembra che sia anche qui sia la fine del mondo sui tamponi gratuiti invece penso dice ancora il governatore sia giusto trovare una soluzione che rispetti il pensiero delle persone ma che non diventi una sorta di punizione per chi non si vaccina ora caro presidente io credo che ormai siamo in ritardo cioè non hai più tempo di soluzione perché non esiste una soluzione ormai è stato deciso così così è così sarà e quindi e quindi e quindi ormai per chi non vuol vaccinarsi come ho detto bisogna resistere fino al 31 di dicembre sperando che poi qualcosa vada in un altro modo per il resto non possiamo farci niente dobbiamo semplicemente aspettare e fare questi sacrifici sperando che le cose cambino certamente è che chi ha provocato tutto questo disastro arriverà un giorno ancora no perché presto ma arriverà un giorno in cui dovrà fare i conti con che cosa con la propria coscienza quello è un tribunale spietato dove non si fugge rientra a scuola la maestra no pass è stato fatto il tampone l'assessore ceccarelli dice l'educatrice ha ripreso servizio altri insegnanti si sottopongono al test ogni due giorni vedete quando parliamo di resistenza ci sono persone che vogliono continuare su questa strada e si sottopongono al test ogni due giorni e questo è l'articolo sul Corriere Adriatico mentre sulla sulla sanità che è un po' colabrodo ma questo è un nonostante si paghino fior fior di tasse la sanità non va bene non funziona spesso questo è il racconto sul Carlino di Pesaro io paziente alla ricerca di un appuntamento ma il cup non mi fa prenotare le visite lui ha 51 anni si chiama Corrado Livi e al centro prenotazioni dopo oculistica e gastroenterologia è arrivato l'ennesimo no per endocrinologia Michele Graziano del tribunale del malato dice provate con la direzione sanitaria e nel caso pensate rivolgetevi ai carabinieri e c'è chi vorrebbe far pagare la terapia intensiva a quelli che finiscono a quelli che non vogliono vaccinarsi e che però finiscono in terapia intensiva vorrebbero far pagare le cure perché costa 5000 euro al giorno eccetera poi in realtà questo discorso potrebbe essere sostenuto nel momento in cui hai una sanità che funziona alla perfezione ma siccome non funziona a nessuna parte quindi sono discorsi che non servono a niente allora andiamo a vedere adesso invece sulla... ecco chiusa la pagina del coronavirus e soprattutto del Green Pass apriamo quella dell'economia perché l'economia locale perché nella pagina di Pesaro del resto del Calino questa mattina si parla del dopo Papalini allora Mauro Papalini fra due mesi scade con l'incarico scade il suo incarico di presidente di Confindustria di Pesaro eccetera è partito il dopo Papalini con la nomina dei saggi perché c'è tutto un iter da seguire c'è un'urna nella quale vengono inseriti dei nomi, sei nomi ve li dico anche Paolo Andreani, Vittorio Livi, Costanzo Perlini, Gastone Bertozzini, Luigi Moretti e Pier Giorgio Carliaggi ecco l'inizio dopo aver messo questi sei nomi cioè l'estrazione assorte del passaggio delle consegne all'interno di Confindustria con la nomina appunto di questi saggi da parte del presidente uscente Papalini e sono stati estratti Paolo Andreani, Vittorio Livi e Costanzo Perlini che ora dovranno stabilire le date per iniziare le consultazioni tra i soci e quindi arrivare alla scelta di un nominativo che poi diventerà il successore di Mauro Papalini ormai non è più un segreto, scrive il Carlino questa mattina, che il nome papabile alla successione di Papalini è quello di Alessandra Baronciani che da molti anni manda avanti l'industria fondata dal padre Cico la Isopac che opera nell'ambito degli imballaggi mentre c'è un'azienda invece che è finita nella bufera è l'azienda dei trasporti scolastici Tundo che probabilmente avrà parecchio da discutere con le amministrazioni comunali con noi comuni non lavorerà più, questo è il titolo sul Corriere per quanto riguarda i disservizi dell'inizio della scuola molti comuni sono stati letteralmente lasciati a piedi Corunanime si leva dalle amministrazioni rimaste a piedate si cerca di non far gravare sulle famiglie il rischio di ritocchi delle tarife la Tundo ha avuto qualche problema con gli autisti che si sono rifiutati di salire sugli autobus perché dovevano avere ancora degli stipendi arretrati sulla pagina di Fano invece del Corriere Adriatico si parla ancora di questa strada pericolosa che è la strada che costeggia il Codma di Rosciano un cordolo può salvare la vita proposta per la via della morte, svolta pericolosa a Rosciano in un quarto d'ora, quattro veicoli tagliano il percorso verso la rotatoria chi conosce la strada sa perfettamente di cosa stiamo parlando le macchine, vedete, ve lo faccio per farvi capire che vengono verso Fano dovrebbero andare diritte cioè sono obbligate ad andare in questo senso di marcia perché poi qua giù c'è una rotatoria qua in fondo c'è una rotatoria che dovrebbero fare per tornare poi su questa strada in realtà molti tagliano vedete come ha fatto questa auto qui taglia o come questo furgone il problema è che cos'è, qual è? è che l'ultima volta purtroppo ci ha lasciato la vita un 57enne perché veniva giù da qui con il motorino da questa parte l'auto gli ha tagliato la strada e quindi è morto sul colpo intanto sulla pagina sempre di Fano del Corriere Adriatico la sosta adesso è tornata libera questa è una buona notizia certamente per i residenti della zona Sassonia e Lido a Fano dove quest'anno hanno debuttato i parcheggi a pagamento i parcheggi blu in zona mare, come scrive Massimo Foghetti c'è un po' un conflitto di interessi perché da una parte ci sono i residenti che ovviamente condannano questo esperimento però gli operatori turistici invece dicono no, è stata una buona cosa l'introduzione dei parcometri perché? perché finalmente ha evitato che qualcuno occupasse un posto macchina ininterrottamente per tre mesi chiaramente il ricambio delle auto è importante cosa che è estremamente necessaria in una località turistica quindi chiaramente capisco sono perfettamente consapevole che ci sono persone che risiedono lì e che vorrebbero anche durante l'estate i parcheggi liberi così da poter parcheggiare sotto casa quando uno rientra dal lavoro eccetera eccetera però vista dall'altra parte cioè con l'occhio del turista eccetera certamente ma non solo turiste perché anche secondo me il fatto che ci sia questo ricambio è importante perché soprattutto se uno deve andare a mangiare al ristorante nel lungomare oppure fare semplicemente delle attività che richiedono poco tempo allora la città capitale europea del clarinetto questa è un'iniziativa è un'iniziativa musicale è stato lanciato un concorso per giovani musicisti ad organizzare l'evento l'associazione arte e musica e la fondazione Cassa dei risparmi di Fano e Fano che lancia un concorso per giovani clarinettisti che sono arrivati praticamente da tutta Italia ma anche dall'estero Grecia, Spagna, Finlandia insomma 33 concorrenti che poi parteciperanno a questa selezione 16 mi pare saranno quelli che si esibiranno oggi e domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30 alla Pinacoteca San Domenico la Movida Urbino invece è fuori controllo locali chiusi a mezzanotte il provvedimento del sindaco Gambini in vigore da ieri notte per 30 giorni dal giovedì al sabato sta facendo discutere Gambini dice si rischia l'epilogo drammatico tanti ragazzini e giovani sono ubriachi e sballati quindi bisogna metterci anche qui un freno e quindi a mezzanotte tutti a casa proteste per i locali chiusi alle 24 anche il Carlino di Urbino apre così Commercio, Confesercenti e Rosati di Vivo Urbino e PD contro l'ordinanza del sindaco Gambini mentre una discarica al parco naturale del Furlo è stata scoperta con gli elicotteri della Guardia di Finanza in un'ampia area sono stati trovati circa 60 frigoriferi e congelatori 5 metri cubi di copertoni sul luogo decine di biciclette batterie e un'ingente quantità di materiale edilizio e ovviamente l'area è stata sequestrata terremoto invece nella notte ad Apecchio un boator il terremoto è successo intorno alle 23 no intorno lì si è precisi perché ci sono i sistemi che registrano quindi alle 23.03 della notte tra mercoledì e giovedì con magnitudo 2.9 ad una profondità di 10.2 km con epicentro in comune di Apecchio in località San Martino e perché è finito sul giornale? non tanto per la magnitudo ma perché è il luogo dove c'è l'ipotesi di creare un mega invaso che raccolga le acque del Candigliano come dire attenzione prima di pensare a fare questo invaso cercate di capire se questa è un'area sismica dove è possibile fare una cosa del genere perché quando tu raccogli dell'acqua e poi c'è il rischio che qualcuno ti spacchi il vaso poi l'acqua da qualche parte deve defluire e se lì attorno ci sono delle case il problema diventa serio Fano Grosseto Vertice Anas Acquaroli diventi prioritaria alla galleria della Guinza ieri c'è stato un Vertice al quale hanno partecipato i tecnici di Anas poi i vari commissari straordinari si è parlato appunto anche della E78 Fano Grosseto e Acquaroli ha scritto e ha chiesto ad Anas di interloquire con il Ministero affinché questi tratti tra i quali c'è anche la galleria della Guinza siano progettati interamente a quattro corsie di marcia anche dalla Val Metauro del Corriere il titolo di scarica abusiva scempio vicino alla riserva naturale l'elicottero della Guardia di Finanza ha identificato il sito con rifiuti speciali e anche pericolosi mentre da Senigallia maxi colpo dal dentista caccia alla banda presi i macchinari ladri in fuga con un bottino da 150 mila euro furto studiato nei minimi dettagli probabilmente si sono finti clienti per fare un sopralluogo ovviamente per vedere un po' attorno cosa c'era nello studio e poi hanno agito all'ospedale di Senigallia invece sistemati gli ospedali scusate gli ascensori ma le sanità così non funzionano vedete anche a Senigallia c'è il problema un problema di malasanità noi ci fermiamo qui l'informazione su Fano TV canale 17 torna questa sera alle 20.30 grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.